Avranno nuovamente un tetto sulla testa i 100 cani del canile comunale di Brindisi rimasti senza rifugio dopo il maltempo che il 6 gennaio scorso colpì proprio questa zona di Brindisi. Il comune di Brindisi ha quindi disposto e definito i lavori di adeguamento per un totale di 35 box di due capannoni del canile comunale di Brindisi che un mese fa erano rimasti senza copertura completamente sradicata dal vento. Una situazione di allarme che aveva costretto gli operatori della struttura comunale di sistemare 20 cani nei box più ampi di altri settori e di adeguare i capannoni interessati dai danni con mezzi di fortuna. Nel frattempo l'amministrazione comunale aveva disposto i lavori ed acquistato per il periodo necessario alla definizione degli stessi 80 cucce per venire incontro alle esigenze del canile. Fondamentale per l'assistenza ai randaggi l'apporto di tanti volontari della LEPA ed un vero e proprio movimento creatosi su Facebook di famiglie che hanno donato numerose cucce. Il maltempo di questi mesi ha ritardato i lavori che si sono conclusi in questi giorni permettendo ai cani senza tetto di tornare ad avere una sistemazione adeguata. Grazie.